Ciao, sono Marco Ripoldi, sono un attore di teatro, cinema, web, volto del Terzo Segreto di Satira e cosa ci faccio qua? Boh, è la prima cosa che mi sono chiesto anch'io. Sicuramente l'invito a partecipare a questo festival mi ha portato a informarmi innanzitutto, ad approfondire parole, tematiche che leggo tutti i giorni sul giornale ma che poi nel concreto a volte uno non ci va fino in fondo. E quindi ho iniziato davvero a seguire Sofia Pasotto su Instagram, sono uscito a fare un aperitivo con Ferdinando Cotugno per chiedere a lui anche aiuti su cosa fare nel mio speech. E ovviamente il consiglio più intimo che ora posso svelare, visto che l'ho già fatto lo speech, è che non parlare di tecnicismi, tu che non capisci niente. Ma umilmente ho portato una riflessione, nel senso che io ho due figli e quindi lo speech per l'appunto si chiama Cosa vuoi fare da grande? Perché se penso al cambiamento climatico e alla finanza etica, la prima cosa che penso è ho messo al mondo due figli in questo mondo, in questa società, con questo governo da oggi. e quindi le riflessioni sono state sui miei figlioli, nel senso che spesso si fanno, facendo delle chiacchiere con chi non ha figlio, chi li vorrebbe, viene fuori, ma ha senso fare un figlio oggi, ha senso appunto dare in mano questo futuro a una creatura e nello speech spero che, nonostante i miei lamenti sulla difficoltà di crescere un bimbo, penso che la cosa, l'unica salvezza siano le nuove generazioni, siano le persone, i più giovani, anche gli appena nati, perché hanno un'attenzione, un'educazione già innata che io non avevo e quindi io imparo da loro tante cose e mi responsabilizzo e divento più attento anche per loro. Detto ciò, poi la finanza etica è un campo enorme dove io posso dire poco se non appoggiare tutte quelle scelte che alcune banche, forse poche banche, fanno nel proteggere la casa che condividiamo tutti, che è questo mondo.